Spazio e fondi per sostenere gli artisti di strada, soprattutto in quei comuni che in Abruzzo sfiorano a fatica i 4.000 residenti. Leandro Bracco, consigliere del gruppo misto, avanza una proposta di legge. Dei 305 comuni che compongono il nostro Abruzzo, 239, quindi la stragrande maggioranza, è abitata da neanche 4.000 abitanti a testa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tramite la cultura di strada, io mi auguro e sono fiducioso del fatto, che tramite la cultura di strada possa tornare quella vitalità che a oggi purtroppo manca o totalmente o in parte nella stragrande maggioranza di comuni abruzzesi e mi riferisco prevalentemente all'entroterra. Per ottenere una più larga diffusione di questa cultura, Bracco chiede che vengano destinati 300.000 euro da ripartire tra i diversi comuni. Lo stanziamento che ho previsto è di circa 300.000 euro. Di questi 300.000 euro, 280.000 euro, quindi la stragrande maggioranza di questa cifra, andrebbe ai singoli comuni affinché venisse incentivato e valorizzato la cosiddetta cultura di strada, cioè tutti quegli artisti che, diciamo, nelle varie sfaccettature dell'arte e della cultura, prediligono appunto stare nelle piazze, nei borghi, appunto nelle strade e dare vitalità, dare vita al loro sentire, al loro concetto di cultura. Nelle grandissime città, nelle metropoli, nelle grandi città questa cosa è già viva, già si è sviluppata, nell'entroterra abruzzese invece per nulla o quasi per nulla. Quindi questa proposta di legge appunto ha l'obiettivo al fine di provare a ridare vitalità all'entroterra abruzzese.